Venezia, un settore in continua espansione in Italia come nel resto d'Europa. Unica città in difficoltà, è proprio la nostra che perde posizioni e scende dal podio delle mete più gettonate. Nel vecchio continente l'impatto economico delle crociere ha raggiunto nel 2015 la cifra record di 40,95 miliardi, più 2% rispetto all'anno precedente. E' quanto emerge dal secondo report di CLIA, l'organizzazione internazionale delle compagnie da crociera, secondo cui le spese dirette generate dal settore hanno raggiunto quasi 17 miliardi, in aumento rispetto al 2014. L'Italia si conferma la prima destinazione europea con 6,8 milioni di passeggeri, nonché leader globale nella costruzione di navi, con l'unica eccezione appunto del capoluogo Veneto. La città resta bloccata in un'eterna situazione di stallo, il risultato è che Venezia ha visto un calo dell'8,7%, facendo uscire la laguna dal podio dei porti mediterranei, quarta dietro a Barcellona, Civitavecchia e Palma di Mallorca.